28 querce in memoria delle 28 persone di Corneido che sono state strappate dal virus ai loro cari. Si chiamerà Parco della Rinascita, l'area verde fra Strada Campagna e Via Palazzina. Sarà inaugurato la mattina del 18 marzo in occasione della giornata nazionale per le vittime del Covid. Il Parlamento ha istituito la giornata nazionale di vittime di Covid. Corneido vuole dare solennità a questa giornata attraverso l'istituzione di questo nuovo parco che abbiamo appunto chiamato Parco della Rinascita. 28 querce della varietà Petra, alberi che accorpano un duplice valore simbolico. La querce è presente infatti nello stemma della Repubblica Italiana e in quello di Corneido Vicentino. È una tipologia autoctona in via di estinzione e quindi il gesto si lega anche al concetto di tutela ambientale. Poi c'è la forza che la quercia rappresenta nel dare un senso di continuità e infinito a queste persone. La piantumazione non è fatta a caso. La piantumazione per chi avrà la voglia di venire in questo parco è fatta a forma di infinito. C'è un otto rovesciato e anche questo è un simbolo che vogliamo dare affinché queste querce siano a perenne memoria, infinita memoria, di coloro che hanno subito questa tragica perdita. Coinvolti nell'iniziativa gli alunni dell'Istituto Comprensivo di Cornedo che per l'occasione hanno partecipato ad un concorso di idee ed hanno tramutato il nome Parco della Rinascita in un segno grafico riportato in una targa che sarà posta nel parco.